Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo del sistema VPN. È un sistema che ci permette di navigare in modalità anonima e in sicurezza. Come acronimo è conosciuto come Virtual Private Network. Questo sistema è compatibile sia con Windows, iOS e Android o iPhone. Andiamo sul nostro Bransware e ci scarichiamo la versione per Windows. Scriviamo Touch VPN. Clicchiamo qui. Vi ricordo che questa versione è completamente gratis. Scorriamo verso il basso e troviamo tutte le versioni. Possiamo installarlo su Microsoft Edge, Firefox e Chrome. Invece per il computer tramite Mac oppure App Store, Microsoft, Windows MSI o eventualmente anche su Google Play. Possiamo trovare anche lì. Ora faremo un attimo uno speed test senza VPN e con il Touch VPN. Questi sono i dati. Adesso proviamo a fare lo stesso speed test col Touch VPN. Ok, si presenta così. In questo momento siamo attivi. Facciamo lo speed test. Sto facendo lo speed test a Milano. Come ping è abbastanza buono. Come velocità anche. 14. Come upload lo stesso. 8 forse. Ce la fa 8? Forse sì. Ok. È discreto. Si può tranquillamente navigare. Se vogliamo invece conoscere il nostro IP, basta sempre andare sul Bransware. Ovviamente col Touch VPN è attivato. Noi scriviamo My IP e ci troviamo in Canada. Se avete domande scrivete nei commenti e ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao!